e buonasera a tutti amici di casalane siamo tornati qui per parlarvi di vicenza tantissimo tempo che manchiamo ma purtroppo questa stagione abbiamo avuto veramente tante tante difficoltà a seguire la squadra impegnando nel campionato cadetto ma sono qui per parlarvi di vicenza cosenza terminata 1 a 0 per il bianco rossi nel play out di andata che appunto segnerà il destino di una delle due squadre una resterà in b l'altra andrà in c detto questo io vi invito ancora a iscrivervi al canale a mettere mi piace sui sui nostri social ci trovate soprattutto su youtube ragazzi è molto importante mettete il pollicione quel like a voi non costa nulla a noi ci ci fa girare molto meglio i video iscrivetevi siamo arrivati finalmente a mille è un nostro primo traguardo adesso cercheremo di aumentare ancora di più il nostro seguito nei prossimi giorni avrete informazioni circa gli abbonamenti circa le emoticon e le varie cose che si possono fare all'interno di una community che sta diventando sempre più grande detto questo però andiamo finalmente a parlare della partita un vicenza che la vince la vince di voglia la vince di anche bel gioco la vince perché è l'unica squadra in campo ad aver provato a fare la partita ad aver provato a fare qualcosa un vicenza che onestamente io speravo di raccontarvi nei playoff così non è stata una stagione brutta una stagione anche difficile da commentare tanti avvicinamenti di carlo brocchia adesso c'è baldini beh allora mettiamo che comunque il miracolo c'è stato le ultime tre giornate hanno visto un vicenza vittorioso per tre volte consecutive ne ha pagato il prezzo l'alessandria che è stata sconfitta nell'ultima giornata e adesso adesso questa squadra si deve prendere i play out perché ne ha la forza ne ha la capacità ai giocatori io oggi guardando la partita veramente non mi riesco a capacitarli come questo vicenza sia sia impegnato in questo in questo confronto quando secondo me è una squadra magari non per centrare i playoff ma insomma per una salvezza tranquilla sicuramente tanti tanti errori fatti durante la stagione dalla squadra bianco rossa che adesso però ha la possibilità di mettere di mettere un freno a tutto quello che è stato la stagione e ripartire alla grande per il prossimo anno mantenendo la serie b il primo round va appunto al vicenza 1 a 0 grandissimo gol di maggio nato dalla giocata il gol di maggio ma la grandissima giocata di dal monte che entra al posto di lukaku un altro giocatore che ha fatto una bellissima partita e con un'azione in cui riesce a fare addirittura due tunnel porta porta sostanzialmente il vicenza in vantaggio perché tunnel sul difensore che lo marca tunnel al portiere in uscita palo la palla poi sbatte su un difensore del cosenza in maggio la ribadisce rete quindi il primo round si chiude sull'1 a 0 per il vicenza adesso la squadra di baldini avrà due risultati utili su tre andando a cosenza il 20 di maggio il 20 di maggio che probabilmente ci troverete qui per seguire la live insieme spero a tutti voi spera tutto il al tifo vicentino che non riuscirà andare a cosenza per seguire la squadra perché questa squadra anche oggi ha dimostrato al menti uno stadio pieno uno stadio dove veramente i tifosi del vicenza hanno fatto sentire tutta la loro tutta la loro voglia di questa squadra tutta la loro vicinanza in una stagione particolare dove la società ha chiesto tempo e i tifosi del vicenza hanno sempre risposto presente quindi veramente tanta tanta come dire tanta voglia di vicenza e soprattutto tanta stima nei confronti di questo tifo caldo che vuole una squadra competente per per risultati più più alti ecco che dire allora un vicenza che si schiera in campo con contini brosco de maio e bruscagin a centrocampo maggio cavion bichel e lucacu tre quartisti ranocchia e da cruz con dietro le punte dio questa è l'undici iniziale poi a subentrare sono dal monte appunto per lucacu maggiorini per ranocchia e giacomelli per cavion cavion oggi migliore in campo pronti via un vicenza che prova subito a fare la gara anche se è il cosenza a rischiare grosso nel nel primo tempo caso migliore in campo dei suoi vette veramente tanta vaura soprattutto a de maio oggi de maio non mi è piaciuto tantissimo ma non tanto per errori madornali ma perché insomma una prestazione spesso spesso troppe volte lontano da caso gli lasciava quasi sempre la possibilità di girarsi insomma un un de maio che io mi aspettavo più più costante più più capace perché comunque in in queste partite la sua esperienza deve farsi sentire come si è fatta sentire l'esperienza di maggio come si è fatta sentire se secondo me anche l'esperienza del di baldini insomma di tutto di tutto i nuovi acquisti del del mondo vicenza perché veramente è una squadra che è rinata dicevo il cosenza parte bene ma è il vicenza a rendersi pericolosa appunto cavione che oggi secondo me migliore in campo che sui sulla respinta di un calcio d'angolo si coordina benissimo e di controbalzo va a centrare la traversa anche sfortunato il centrocampista vicentino vicenza che poi però ecco ha forse la presunzione di voler giocarla sempre de maio rischia grossissimo quando praticamente su un controllo sbagliato lancia in porta caso molto bravo a rimanere con il possesso palla tra i due difensori del vicenza e poi abbattere contini se non fosse che l'arbitro si accorge di un netto fuori gioco al var o comunque richiamato si accorge di un netto fuori gioco di contini di scusate di caso sul controllo palla di de maio ci saranno tante 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 polemiche perché comunque de maio tenta la giocata lo stop lo sbaglia da solo senza l'intervento di caso l'arbitro considera influente il fuori gioco iniziale di caso ottimo così per per noi insomma per per i sostenitori del dell'ane resta qualche dubbio perché comunque quel controllo sbagliato di de maio c'è c'è e caso parte in fuori gioco ma non so quanto la sua posizione fuori gioco influisca sicuramente si avvantaggia ecco appunto come considerato dall'arbitro detto questo il secondo tempo il cosenza esce dal campo non si tiene prova a tenere il pareggio in modo ricordiamo il cosenza in caso di vittoria con un gol di scarto o con più gol di scarto verrebbe manterrebbe la serie b in caso di vittoria e in caso di pareggio o sconfitta a cosenza ovviamente sarà il vicenza a gioire detto questo il secondo tempo il cosenza prova a mantenere lo 0 a 0 poi forte del ritorno in casa il vicenza invece le prova tutte il secondo tempo praticamente solo una squadra in campo parte forse una mezza parata di continui su un tiro a giro di caso comunque non neanche troppo neanche troppo pericoloso è sempre il vicenza a fare a fare da padrone lukaku oggi che il primo tempo ha fortemente spinto sulla sulla fascia sinistra con un confronto cobbittante veramente stravinto dal giocatore belga e che dire quando quando la partita sembrava finita baldini ci crede fa i cambi mette un vicenza proprio a trazione anteriore ripeto dal monte maggiorini giacomelli tutti in avanti insieme anche a dio cambia praticamente il il sistema tattico con i solo bigel e da cruz a fare un po da filtro al centro campo e e sul più bello dal monte si inventa la giocata perché comunque le qualità ce le ha quest'anno il calciatore forse non ha reso come l'anno scorso ma si inventa una giocata prima una finta contro finta fa fuori il diretto marcatore con un tunnel si trova lì tu per tu con il portiere del cosenza lo batte centrando appunto il mezzo alle gambe il portiere del cosenza in uscita la palla sbatte sul palo su un giocatore del del cosenza e poi finalmente maggio la ribadisce rete tra l'altro il fatto che sia proprio maggio a centrale uno dei gol che potrebbe veramente regalare la permanenza in serie b al vicenza è importante magari sarà un segno del destino lo sapremo solo il 20 comunque veramente un giocatore che ha voluto fortemente giocare con questa maia finire lì dove era iniziato tutto e beh non gli si può che dire grazie dopo otto mesi di inattività torna e decide la gara di andata di questo play out che vede adesso il vicenza nettamente in vantaggio sul cosenza avrà due risultati utili su te io spero che i tifosi che oggi sono stati veramente bellissimi bellissimi da sentire bellissimi da vedere mi hanno veramente impressionato i tifosi di questo vicenza che erano partiti con tutt'altra aspettative per questa stagione si ritrovano invece a 90 minuti di sofferenza dalla permanenza in serie b quindi ragazzi stringiamoci forte intorno a questa squadra questa squadra che quest'anno ci ha regalato tante troppe sofferenze ma che può con i prossimi 90 minuti regalarci una permanenza in serie b e poi un anno tutto da vivere per la prossima stagione noi ci vediamo con il lane e con tutti noi del fuoricampo il 20 per la diretta del della finale di ritorno di questi play out cosenza vicenza ciao a tutti ragazzi e alla prossima